carissimi amici di Davide Maggio questa è una vergognosa marchetta che sto facendo sono Giorgio Montanini è una marchetta perché stiamo pubblicizzando il programma di Comedy Central stand up comedy canale 124 di Sky e quindi vi invito tutti con la mia testa sotto le vostre scarpe a cercare di vederlo prossimamente quindi grazie per la vostra magnanimità e grazie a Davide Maggio per averci ospitato pagando grazie dovete sapere che Dio un uomo invisibile che vive in cielo fa tutto il mondo una settimana anzi un giorno si è pure riposato e lui vede e sente ogni cosa che fate ogni istante della vostra vita la storia delle renne era più convincente stand up comedy la nuova stagione da lunedì 2 febbraio alle 23 su comedy center